Come annunciato all'inizio, la mattinata di oggi è dedicata a un argomento che noi evochiamo da qualche tempo, già Sinistra Critica lo faceva, noi cerchiamo di farlo in modo forse più sistematico, ma in realtà ancora non siamo riusciti veramente ad approfondire questa tematica così come vorremmo, sia dal punto di vista dell'approfondimento teorico-politico, sia dal punto di vista soprattutto dell'iniziativa. Non che la tematica ambientalista sia una novità per la nostra organizzazione, direi neanche per la Sinistra più in generale. Noi abbiamo spesso seguito, partecipato a mobilitazioni in cui il tema della difesa dell'ambiente ha una rilevanza centrale. Naturalmente il pensiero corre per prima cosa al movimento Notav in Valsusa, che è un movimento che ovviamente difende un ambiente non per volontà passatista o regressiva, ma lo difende da una devastazione che è profonda ed è legata a progetti di grande dimensione. Questo ovviamente riguarda tante altre mobilitazioni contro le cosiddette grandi opere. Ma naturalmente abbiamo partecipato a tante altre mobilitazioni, anche a mobilitazioni in difesa genericamente dell'ambiente, non solo specificamente. Come è noto a partire dalla metà degli anni 70 e ancora di più negli anni e decenni successivi, parte della sinistra si è trasformata in partiti verdi. L'esempio più rilevante è in particolar modo in Germania, dove quello che fu uno dei leader principali del maggio 68 francese, Daniel Convendì, è diventato in realtà un guru del movimento e un dirigente assoluto del movimento dei verdi tedeschi. Così come abbiamo avuto esperienze simili, seppure su misura meno grande, anche in Italia, basta pensare che tanti dirigenti del movimento del 68 e degli anni 70 sono improvvisamente diventati verdi. Basta ricordare Mario Capanna perché avevano l'illusione, la speranza, il pensiero che adottando questa divisa, questo tipo di maglietta, sarebbero stati più accattivanti, più convincenti nei confronti dell'elettorato. In realtà non è stato così, perché quell'impostazione ambientalista in realtà non ha mai sfondato, nonostante che, e questo è il punto centrale che vorrei toccare, nonostante che la contraddizione, noi l'abbiamo definita nel titolo di questo workshop, la convivenza impossibile tra il capitalismo e l'ambiente sia ormai di fronte agli occhi di tutti. Se ne parla anche non solo frequentemente sugli organi di stampa e mass media, ma se ne parla sul tram, come si suol dire, nel senso che i cambiamenti climatici non sono più solo materia di discussione tra i meteorologi o piuttosto che gli studiosi dell'atmosfera, ma sono una cosa che viviamo sulla nostra pelle tutti i giorni. Naturalmente non bisogna essere impressionisti, non bisogna pensare semplicemente che siccome un'estate è meno calda o è più calda di quelle degli anni precedenti, questo sia il, diciamo, di per sé rivelatore del cambiamento climatico. I cambiamenti climatici si possono valutare seriamente e scientificamente su un numero grande di anni, valutando le medie delle temperature, eccetera, però, diciamo, sono un dato impressionistico ma che in qualche modo dà la sensazione un po' a livello generale dell'opinione pubblica, diciamo, del cittadino qualunque dà l'impressione che effettivamente ci sia qualcosa che si sta trasformando sotto le proprie mani. Però il punto non è neanche questo, perché, ripeto, dei cambiamenti climatici oramai non li nega quasi più nessuno, dico quasi perché qualcuno che continua a negarli c'è sempre, ma, diciamo, quella scuola di pensiero che fino a una decina d'anni fa o forse anche meno, negava i cambiamenti climatici e diceva che si trattava semplicemente di fluttuazioni, di ondeggiamenti del clima, del pianeta, dovuto a semplicemente cicli tra il freddo e il caldo come sono sempre avvenuti nei millenni scorsi, oramai queste teorie sono ampiamente smentite, perché la tendenza drastica e irreversibile, perlomeno in questa situazione, irreversibile verso l'accrescimento è riconosciuta oramai. Tant'è vero che proprio due o tre giorni fa si è svolta anche un'assemblea dell'ONU su cui abbiamo avuto l'onore del nostro Presidente del Consiglio che ci ha preso la parola, ma insomma che un'assemblea dell'ONU che ha cercato addirittura, come tanti altri momenti di confronto internazionale negli anni e nei decenni scorsi, di porre dei limiti e non solo il cambiamento climatico è ampiamente riconosciuto e dimostrato, ma abbiamo che anche le motivazioni, diciamo così, materiali di quel cambiamento e cioè in particolar modo il consumo di energie fossili in primo luogo è anche questo ampiamente riconosciuto come il responsabile principale del cambiamento climatico stesso. Tant'è vero che si pongono, come voi sapete, dei limiti, tutti i vari protocolli da Chioto a Rio e anche alle decisioni dell'ONU di qualche giorno fa si pongono dei limiti al consumo di energie fossili, alla produzione di microparticelle e quindi tentando non tanto di invertire il cambiamento climatico, che peraltro è probabilmente impossibile da invertire, perlomeno all'attuale stato delle conoscenze scientifiche, però neanche di fermarlo, ma solo di rallentarlo, rallentarlo sperando che le prossime generazioni facciano qualche cosa. In realtà l'impostazione capitalistica del rapporto con l'ambiente è questa, nella migliore delle ipotesi, è quella di dire cerchiamo di rallentare con un miglioramento del processo produttivo il peggioramento della situazione ambientale sperando appunto che in futuro la provvidenza ci saldi. È una reazione sostanzialmente analoga a tutto quello che ha il comportamento tradizionale del capitalismo di fronte a tutte le sue contraddizioni. In realtà il capitalismo non solo propagandisticamente, ma proprio dal punto di vista in qualche modo ontologico ragiona sempre sui due tè, i cosiddetti famosi due tempi. Noi abbiamo sempre denunciato la cosa dei due tempi, ma non solo dal punto di vista propagandistico, ma in realtà perché il capitalismo non pensa mai a quello che combina oggi, ma pensa sempre che il suo sviluppo in realtà, siccome produrrà ricchezze e miglioramento in futuro, dobbiamo pagare lo scotto delle contraddizioni che oggi si producono. Questo sul piano sociale l'abbiamo imparato, il movimento operaio l'ha imparato nel corso dei secoli, e oggi ci sono stati approfondimenti teorici e politici di grande rilevanza, ovviamente quello di Marx, ma alcuni approfondimenti pure prima di Marx e ovviamente dopo Marx da tanti suoi seguaci, ma oggi si tratta anche di soffermarsi sulle contraddizioni tra il capitalismo e l'ambiente. Non soffermarsi naturalmente solo, poi è giusto fare anche quello, e comunque non è qui la sede in nessun modo, non soffermarsi solo sulle responsabilità tecniche e tecnologiche legate allo sviluppo capitalistico, ma tentare di capire come appunto la società capitalistica, il modo di produzione capitalistico, la società basata sul profitto, l'economia basata sul profitto, sia la responsabile fondamentale del deterioramento climatico e quindi potenzialmente della distruzione del nostro pianeta. Naturalmente qualunque atteggiamento catastrofistico, cioè della distruzione alle porte, è e rischia di essere controproducente, perché se la distruzione alle porte tanto vale godere dell'oggi e non pensare al domani, ma invece spiegare come ancora oggi sia possibile, ripeto, forse non invertire, anzi sicuramente allo stato attuale non invertire, ma arrestare drasticamente il deterioramento. Naturalmente io ho parlato delle microparticelle, del consumo delle energie fossili, ma i campi sarebbero tanti altri, dalla distruzione delle foreste tropicali e quindi delle foreste pluviali che hanno grande influenza sul clima, alla modifica delle abitudini alimentari e a tante altre cose. E' chiaro che questa contraddizione noi non abbiamo mai visto una vera e propria assunzione da parte del movimento operaio di queste cose, perché in realtà il movimento operaio si è sempre adagiato, ma questo è motivo della successiva comunicazione, si è sempre collocato, quasi sempre, in realtà qualche eccezione nel movimento operaio, nella sua storia, qualche eccezione sia di pensiero che di azione c'è stata, però la stragrande maggioranza del movimento operaio, la stessa stragrande maggioranza della classe operaia, anche di quella organizzata, anche di quella politicizzata, ha sempre ritenuto che lo sviluppo facesse bene alla lotta di classe, quindi in qualche modo lo sviluppo portasse, questo a partire da Marx, il quale elaborò la teoria per la quale il capitalismo era ostacolo allo sviluppo ulteriore delle forze produttive. Naturalmente qui bisogna ragionare sullo sviluppo quantitativo e qualitativo, ma diciamo in ogni caso c'è una considerazione, anche se Marx in qualche passaggio, e anche Engels in qualche passaggio coglie alcuni altri elementi di contraddizione, però diciamo nella buona sostanza il movimento operaio ha sempre pensato che lo sviluppo, diciamo, fosse una cosa automaticamente buona. Naturalmente noi non pensiamo il contrario, cioè che lo sviluppo di per sé sia automaticamente cattivo. Il problema è quale, come, in che misura e soprattutto in quale contesto economico-sociale. Ora, naturalmente questo tipo di considerazione è evidentemente stata la base del movimento operaio che tutti quanti noi abbiamo conosciuto e per certi versi dello stesso movimento operaio oggi. Su questo ci saranno poi due comunicazioni importanti, che peraltro riguardano due situazioni di mobilitazione, di movimento, nelle quali noi abbiamo, ci siamo impegnati fin dall'inizio e che sono evidentemente, ovviamente, due esperienze molto locali, ma con grande valenza, non solo simbolica, ma anche politico-sociale. Parlo qui della situazione attorno, dentro e attorno all'Ilva di Taranto, su cui poi interverrà Margherita successivamente, dove è noto, diciamo, è stato abbastanza materia di discussione, diciamo, perlomeno fino a un anno fa, poi, diciamo, la materia fuori di Taranto è un po' caduta di attualità, ma ovviamente non la problematica che aveva suscitato grandi mobilitazioni in quella città. L'altra esperienza di cui si parla è un po' meno conosciuta a livello nazionale, ma è altrettanto importante e con, diciamo, radici storiche lunghe, è della vicenda delle cave di marmo di Carrara, su cui interverrà il compagno Ildo. Ora, questa convivenza noi la combattiamo, cioè, noi il capitalismo lo combattiamo da sempre, diciamo, non abbiamo bisogno di motivazioni ulteriori per combatterlo, insomma, ne abbiamo parlato tante volte, anche ieri dal punto di vista più specificamente operaio e sindacale, eccetera, insomma, credo che non ci sia bisogno di andare a cercare altri motivi. Il problema è che, invece, fare nostro e utilizzare, farne motivo di, perlomeno di ipotesi, non è una proposta concreta, di ipotesi di campagna su queste cose, oltre che di impegno concreto delle nostre compagnie e dei nostri compagni in tutti i movimenti, diciamo, che qua e là sparsi per il paese si muovono su questo terreno, ora è un elemento in più perché consente di coinvolgere attorno alla lotta operaia altri movimenti e soprattutto consente di dare un'immagine dentro i movimenti ambientali della classe operaia, non come una controparte che per la sua vocazione sviluppista, per la sua pur legittima, diciamo, interesse ad avere un luogo di lavoro, diciamo, diventa una sorta di nemica dell'ambiente anche ella, come, diciamo, il capitalismo. No, bisogna spiegare, tentare di spiegare, tentare di agire per dimostrare che in realtà è possibile una convivenza tra lo sviluppo umano e l'ambiente. Una convivenza che, evidentemente, di cui noi adesso non diamo ricette, non le diamo nemmeno sul socialismo in quanto tale, perché tantomeno le possiamo dare su una, però, diciamo, come indicazione di lavoro. Ecco, questo è un po' il senso di questa nostra discussione perché, appunto, speriamo e vogliamo e cercheremo di farlo e, ovviamente, invitiamo le compagne e i compagni di tutte le città a pensare in questo senso di far sì che la nostra presenza nei movimenti ambientalisti, la nostra iniziativa sulle questioni dell'ambiente non sia più un'iniziativa solo sporadica, diciamo così. Naturalmente non sono quello di Margherita e quello di Hildo, non sono i due unici movimenti ambientalisti in cui siamo impegnati, ma ovviamente poi ci sarà il dibattito e probabilmente altri compagni racconteranno di esperienze diverse. Però noi vorremmo che, diciamo, l'aspetto ecologista non fosse solo una scritta nel nostro simbolo, una vocazione astratta della nostra organizzazione, ma sia un ambito d'azione concreta non separata ma assolutamente intrecciata con il nostro anticapitalismo di classe, anticapitalismo rivoluzionario. Ora do la parola a Francesco Locantore per una comunicazione sul punto successivo, che ovviamente è uno sviluppo ulteriore di questa tematica ed è appunto un approfondimento sulla contraddizione tra il movimento operaio, l'apparente contraddizione tra il movimento operaio e l'aspirazione del movimento operaio ad una società diversa e l'aspirazione ambientalista ad una società più sana. Quindi ora ascoltiamo Francesco.